Il 10 dicembre è il giorno in cui fu firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una dichiarazione che fu scritta da una commissione presunta dalla moglie del Presidente Roosevelt, Emanuel Roosevelt, e di cui facevano parte tutti i più importanti giuristi dell'epoca. Si scelse di non fare un trattato vincolante, ma di fare una dichiarazione dall'altissimo valore morale che fu firmata appunto da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. A seguito di questa dichiarazione è iniziato un importante percorso che ha visto man mano nascere dei trattati che hanno poi dato valore giuridico ai tanti aspetti dei diritti umani. In questo contesto generale un ruolo fondamentale ovviamente è quella lotta alla discriminazione contro le donne e c'è un trattato apposta che in inglese si chiama SIDAOT, che è la Convenzione Internazionale per la Lotta alla Discriminazione contro le donne. I diritti umani sono uno dei tre pilastri delle Nazioni Unite. Pace e sicurezza è il primo pilastro, sviluppo socio-economico è il secondo e diritti umani è il terzo. Verso la fine degli anni 90, inizio del nuovo millennio, il sistema internazionale delle Nazioni Unite hanno deciso di focalizzare la loro attenzione sul problema specifico della violenza contro le donne e contro i minori bambini e bambini in situazioni di guerra e sono arrivati alla decisione di varare un'importante risoluzione che prende il nome di Donne, Pace e Sicurezza. Questa risoluzione è del 2000 e a seguito di questa risoluzione è cominciato un percorso. Questo percorso è stato arricchito, a partire del 2004, dalla richiesta del loro segretario generale delle Nazioni Unite a tutti gli Stati di dotarsi di piani d'azione nazionali sul tema di Donne, Pace e Sicurezza.